Sarà una grande festa venerdì 23 settembre, la terza edizione della notte dei ricercatori. Animeremo la città e alcuni luoghi dell'università con i nostri ricercatori, con i nostri laboratori. È la terza edizione della notte dei ricercatori. Avremo conferenze, dibattiti, giochi, degustazioni, mostre, tutto in un grande fermento di pubblico e di addetti ai lavori. Che cos'è la notte dei ricercatori? È una sorta di vetrina attraverso la quale noi vogliamo far vedere quanta e quale ricerca si svolge all'interno dei nostri laboratori, dei nostri studi e delle nostre biblioteche. Non solo, quest'anno la notte dei ricercatori sarà declinata sotto il versante artistico. I nostri ricercatori metteranno in mostra i loro talenti, metteranno in mostra le loro passioni. Parlavo di conferenze, dove copriremo una gamma molto ampia di conoscenze e di argomenti. Ci saranno delle inaugurazioni di mostre, ci saranno degli spettacoli, delle degustazioni, dei giochi per bambini. Insomma, una grande festa alla quale invitiamo tutti i ferraresi e non ferraresi. Grazie.